Siamo arrivati all'appuntamento finale con Metrex, che è un progetto che viene da lontano, che vede protagonista città metropolitana di Milano come altre sei nazioni che insieme a noi hanno condiviso questo percorso, un percorso improntato alle dinamiche della mobilità delle grandi aree urbane e a cercare soluzioni comuni che possano cercare di affrontare e possibilmente risolvere fin dove è possibile i problemi della mobilità delle nostre città.